CarTube, siamo pronti a partire a bordo della nostra autovettura, l'ospite di questa puntata è Lucia De Robertis, consigliere regionale della Toscana, gli diamo il benvenuto e quindi invitiamo tutti voi a stare in nostra compagnia, la sigla, e noi intanto andiamo verso la macchina, quindi restate con noi, si parte, CarTube! GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto, onestà, chiarezza, affidabilità, sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in Via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, Siong e Mahindra. Eccosi qua, finalmente a bordo, benvenuta a bordo, Lucia De Robertis, consigliere regionale, quota il Partito Democratico. Mi viene da dire la prima cosa, viva le donne, perché le donne, poi ne parleremo, questo è un paese, non è un paese per giovani e non è un paese per donne, purtroppo. Stiamo migliorando però. Sì, sì, stiamo nettamente migliorando, il tempo purtroppo oggi non è dei migliori, io parto sempre citando la, ricordando la data di nascita, però insomma con una donna non è molto elegante. No, no, si può fare, si può fare. Va bene. 6 marzo 1966. Ecco, è una data insomma particolare, perché sei vicino, se non sbaglio Lucio Dalla è nato il 6 marzo? Sì, 4 credo, sia la Camosa che il 6 marzo. Ah, il 4 marzo, sì, 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 quindi insomma a marzo, poi a marzo nacque anche un altro grandissimo musicista, cantatore, che era Lucio Battisti, insomma non ci siamo fatti mancare assolutamente niente. Allora, te hai iniziato Lucia la tua carriera politica negli anni 90 nella circoscrizione Giotto, quindi insomma sei partita proprio dalla scuola politica che oggi purtroppo non c'è più, è il primo tema, perché le circoscrizioni purtroppo non ci sono più. Sì, diciamo che è stato il mio primo impegno amministrativo, poi di fatto io nella scuola di partito l'avevo fatto nella democrazia cristiana prima, poi in tutte le trasformazioni che ci sono state, perché ora c'è un problema secondo me di questa nostra classe, che si inizia subito a far politica dagli incarichi, dalle elezioni, invece prima politica si faceva, io ricordo, servendo la pizza alla festa dell'amicizia, poi rimettendo la sera ai tavoli, facendo servizio con uno spirito che era anche di comunità rispetto invece ai partiti molto fluidi che ci sono in questo momento. Poi dopo abbiamo fatto scuola, noi andavamo a fare le scuole estive, mi ricordo un anno a Brescia con l'allora Minestro Coria, insomma abbiamo studiato un po' da dove venivamo, credo sia indispensabile per capire dove vogliamo arrivare. Te sei laureata in storia e filosofia, però hai frequentato queste sedi di partito, oggi le sedi nei partiti praticamente sono chiuse, si aprono solo in vista della campagna elettorale, ma una volta c'era la sede della democrazia cristiana, piazza Sant'Agostino c'era la sede del partito comunista, piazza Risorgimento c'era la sede del vecchio partito socialista, insomma tutte le sere era pieno di gente così. Oltre alle sedi di partito che erano quelle che ti hai citato, via Cavour, piazza Sant'Agostino e piazza Risorgimento, c'erano le sezioni, c'erano le sezioni per quanto mi riguarda della democrazia cristiana, ma c'erano le sezioni del partito comunista, erano luoghi di confronto radicati sul territorio, anche fisicamente, a Rezzo non so quante decine di sezioni della democrazia cristiana c'era, ma con centinaia di iscritti, poi è chiaro che nel partito si celebravano i punti più alti della politica, che era la preconsigliare in consiglio comunale, io ricordo il mio babbo che andava a fare la preparazione del consiglio comunale, non so se adesso usa più fare la preparazione del consiglio comunale, non credo proprio, spero di no, però era una scuola di vita, una scuola di formazione, lì ti appassionavi, nel vero senso della parola, alla politica. Sì, era passione ed era visione comune delle cose, perché venivano discussi gli argomenti, non solo venivano calati sul territorio quelli che erano gli argomenti nazionali, ricordo sono stati gli anni della legge sul divorzio, sono anni che hanno segnato dal mio punto di vista, ricordo la battaglia contro l'aborto, ricordo, insomma, questa è la mia storia che poi dopo è confluita nella Margherita prima, nel Partito Democratico poi, provando a trovare una sintesi politica insieme a quelli che all'epoca erano gli avversari del Partito Comunista, provando a trovare una sintesi negli obiettivi e nei valori che ci accomunano, che sono comunque il senso di comunità che voglia andare al Paese. E poi c'è stata l'entrata nel 2004 in Consiglio Comunale e da lì poi successivamente in Consiglio Regionale. Fra l'altro nel penultimo mandato hai avuto anche un incarico importante, non perché tu non lo abbia adesso, ma è stata Vice Presidente del Consiglio Regionale e poi hai fatto parte, come fai parte adesso, di importanti commissioni. Sì, è proprio diverso il ruolo. Prima, nella passata legislatura, dico la verità, è stato un ripiego quello del Vice Presidente del Consiglio Regionale perché io volevo far parte della Commissione anche l'altra volta, della Commissione qui a caso Commercio. Il Presidente di Commissione, dal punto di vista dell'incisività, non mi piace la parola potere quando si parla degli interessi dei cittadini, ma dal punto di vista dell'incisività e del mandare alcuni provvedimenti in un senso o in un altro, è assolutamente molto di più. Diciamo che ho avuto la fortuna di fare il Vice Presidente Eugenio Eugiani che lasciava molto spazio sia sul territorio che sulle altre province perché lui aveva assolutamente un ruolo, ha interpretato il suo essere Presidente del Consiglio che poi ha ripagato questo suo interpretare perché è stato eletto Presidente della Regione come un momento di confronto con tutti i comuni della Toscana. Lui andava a visitare i sindaci, sentiva i problemi, cercava di definarne nei provvedimenti le esigenze, insomma, quindi avevo molto spazio come Vice Presidente. Più invece, diciamo, vattato è stato il mio lavoro in Commissione Ambiente che invece in questo momento presiedo e che invece dovrà vedere nei prossimi mesi, per esempio, partorire il nuovo piano dei rifiuti. E se vi par poco per una Regione incidere nel piano dei rifiuti, che significa trovare i luoghi dove verranno fatti gli impianti e come questa Regione interpreta anche la transizione ecologica dello stesso piano nazionale di residenza, insomma, è un ruolo molto impegnativo, vi direi a volte preoccupante. Ecco, qui a Rezzo siamo messi bene a livello di smaltimento rifiuti, rispetto a altre aree della Toscana siamo privilegiati. Sì, sì, ma Rezzo è molto variegato, come se si parla Rezzo-Città è una cosa, Rezzo-Provincia è addirittura meglio in alcune zone. Ora dobbiamo affrontare il revamping che ci sarà dell'impianto di San Zeno e capire come ci collochiamo come impianto. È stato fatto molto, credo che la Regione abbia questa doppia sfida di licenziare questo piano dei rifiuti, e si tratta di rifiuti urbani naturalmente, e poi iniziare a confrontarsi con i territori per quanto riguarda tutto lo smaltimento dei rifiuti dei distretti industriali. Ad Arezzo abbiamo l'oro, non ci scordiamo che la Toscana è fatta molto a distretti industriali. L'oro ad Arezzo, il Tessile a Prato, il Conciario su Pisa, il Cartario sulla zona di Lucca. Quindi noi dobbiamo come Regione iniziare con i privati un confronto importante per lo smaltimento facilitato di questi rifiuti tipici delle zone e per far sì che ci siano dei sistemi assolutamente all'avanguardia per il recupero delle risorse, soprattutto per la salute dei cittadini. Sono andato a curiosare nel tuo profilo, infatti siamo amici, quindi insomma vi vedo in continuazione i tuoi post, e mi è saltata all'occhio questa tua presa di posizione, è veramente una vicenda dolorosa, triste, rispetto a questa ragazza di 18 anni, pakistana, che pare essere finita in tragedia. Ti hai usato parole forti, insomma bisogna bypassare questo oscurantismo, questo è necessario. Assolutamente sì, io non sono stata d'accordo neppure nel silenzio di tante persone, da una parte o dall'altra, che solo per il fatto che non sei italiano alzano la voce oppure se sei italiano non la alzano, a me non piace quando abbiamo degli approcci ideologici ai problemi delle persone, non mi piace mai. In questo caso credo che non si possa pensare che questo sia un fatto che dobbiamo sottacere per il rispetto di una cultura diversa dalla nostra, non esiste, la cultura è quella del rispetto del valore della persona umana, sotto tutti i punti di vista, cioè non ci può essere un'azione fatta in nome di un Dio che non rispetta la vita, io questo non lo accetto da parte di nessuno, ma credo che non faccia, non sia scritto da nessun testo sacro, di nessun Dio e di nessuna religione il fatto che si possa uccidere una persona perché non vuol sposare il designato, cioè questi sono atti di violenza pura in nome di una religione che viene interpretata a prodomo proprio, rispetto alle proprie tradizioni, una cosa è la cultura, una cosa sulle tradizioni culturali, una cosa è andare in un paese e rispettarne le regole e le leggi. Allora, a proposito di leggi, c'è questa legge che è stata approvata alla Camera dei Deputati, la legge Zan contro l'omofobia che rimane una piaga in Italia e che purtroppo bisogna fare sì che venga debellata e questo potrebbe essere un passaggio importante. Ci sono state molte discussioni, anche la sinistra è un po' divisa su questo progetto di legge. Secondo me anche qui, come dicevo prima, si è provato a farne un approccio assolutamente ideologico, da una parte e dall'altra. Questa è una legge molto semplice e molto importante. va a modificare, è una proposta di legge che chiede di modificare l'articolo 640 del Codice Penale che prevede, così come per i reati legati alla religione, alla razza, tutti i reati commessi per azioni sia di incitamento che di sostegno, di offese omofobe, quindi legate all'orientamento sessuale, al genere sessuale, ma ci è stata inserita anche la disabilità, vi dirò, su questo, se ci sono questi reati le pene sono maggiorate. Credo che sia una cosa di buon senso, non è che è una legge che protegge la persona con orientamenti sessuali diversi da quelli che noi riteniamo essere la normalità. è una legge che va a modificare un artico del Codice Penale che aumenta le pene nel caso che i reati siano commessi con questo scopo, con questo fine, con questo non fine, scusatemi, non può essere uno scopo ma può essere un momento in civiltà. Dice basta la legge Zanna per questa cosa? No, assolutamente no. Parallelamente bisogna continuare a lavorare sui giovani, ma non solo sui giovani, perché questo è un problema culturale, non è un problema... La legge può solo aiutare a disincentivare certi tipi di atteggiamenti, di comportamenti, però contemporaneamente bisogna lavorare su tutti noi per far sì che certi tipi di atteggiamenti, di discriminazioni non esistano più. È un lavoro lungo, un lavoro faticoso, un lavoro che vede non solo la scuola ma anche il genitore essere protagonista come ognuno di noi in questo salto culturale. Lucia, noi ovviamente e giustamente ci indigniamo per questa dicenda, ripeto, tristissima di questa ragazza pakistana, però dobbiamo sempre ricordarci che in Italia troppe donne per mano di nostri connazionali muoiono per il femminicidio, cioè troppi uomini non accettano, la dinamica è sempre la solita, non scopriamo niente, non accettano di essere lasciati, non accettano di essere, per così dire, traditi, piantati in asso, non so, però sta il fatto che la reazione è sempre brutta e spesso purtroppo porta alla morte della moglie, della compagna, della fidanzata. Sì, sì, su questo non c'è molto da dire o di aggiungere rispetto a quello che hai detto tu, cioè questi sono atti che vanno condannati e che possiamo combattere solamente con la cultura, cioè in questo senso cultura significa conoscenza, significa mettersi, poi purtroppo guarda bisogna creare le condizioni anche perché queste cose non avvengano, le condizioni sono la serenità, sono una stabilità economica, sono la consapevolezza che la donna ha lo stesso valore dell'uomo, ancora ci sono, io non lo so, lavoro in un'azienda dove questo non avviene, ma mi dicono che ci sono aziende dove le donne vengono pagate in maniera diversa dall'uomo, quindi c'è tutta questa legislazione un po' io ieri ho sostenuto un esame dove ero l'unica donna, ma ancora resistono queste cose, è inutile nascondersi, dobbiamo lavorare perché le persone comprendano che la violenza non è mai una soluzione, che la vita non finisce dopo ognuno di noi e quindi bisogna far questo, purtroppo fisicamente l'uomo è più forte della donna, io sono per le opportunità e per le pari opportunità, però purtroppo dal punto di vista fisico se un uomo decide di darti una serie di botte per quanto tu possa avere un bel fisico non ce la fai mai. Allora, a proposito di purtroppo situazioni che sono venute a crearsi e che sono difficili da superare, ecco l'odio razziale, c'è stato, e qui ho visto un altro tuo post, questa cosa ti ha toccato, questo suicidio di questo giovane calciatore che fra l'altro giocava in Milan, questo ragazzo di colore che non sopportava più gli sguardi d'odio, gli sguardi indagatori, insomma questa discriminazione così psicologica, che non è solamente quella fisica, c'è anche quella psicologica che è altrettanto crudele. Poi alla fine sembra successivamente al mio posto, che naturalmente non ho rettificato, sembra che i genitori abbiano poi chiarito che la lettera era del 2019, che i motivi per il quale questo ragazzo si è ucciso non siano direttamente legati a una discriminazione, il problema comunque rimane, a prescindere dall'episodio, rimane fortemente, tanto mi sembra che stiamo attraversando un ragionamento da qualche minuto insieme che ha uno stesso filo rosso, che è quello del ritenersi superiore agli altri, questo che va debellato non solo in questo paese. L'uomo si ritiene superiore alla donna, il bianco si tiene superiore al nero, la persona che per qualcuno orientata in maniera normale, sessualmente, si ritiene superiore a chi esprime un'identità sessuale diversa. Dobbiamo provare a capire che la superiorità la si dimostra in maniera diversa, soprattutto lavorando per far partire tutti dallo stesso blocco di partenza, che è quello della cultura, dell'istruzione e della capacità di discernere chi la dà solo la cultura e la conoscenza degli altri. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di CarTube in presenza di Lucia De Robertis. A tra poco. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità, sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in Via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, Sengong e Mahindra. Seconda parte di CarTube in compagnia di Lucia De Robertis. Abbiamo toccato argomenti abbastanza spinosi, adesso parliamo di una cosa bella, cioè questa ragazza, questa giovane donna, questa giovane mamma che dopo dieci mesi di coma si è risvegliata e quindi insomma ogni tanto si legge qualche bella notizia, questa è colpa della mia categoria, perché mettono troppo il... faccio una critica. Anche della mia che è da lettore perché è una notizia brutta su cui puoi commentare e ti piace leggere, la notizia bella non fa notizia, questa è una cosa ormai... ormai si è risvegliata, si è risvegliata lontano da casa purtroppo perché a quello che ricordo io che seguì anche un po' da vicino la vicenda perché ero stata sollecitata dai concittadini, è stato un metodo sperimentale quello, insomma una cura particolare che facevano solo in alcuni ospedali dove quindi non è stato possibile accogliere all'interno del sistema sanitario nazionale pubblico e regionale in particolare, quindi questo a me un po' mi dispiace, sono felicissima che si è svegliata, che abbia chiamato mamme, che darà possibilità alla sua creatura di rivederla presto. Allora, mi viene in mente una battuta, ma quando eravate voi all'amministrazione comunale ci sono state tutte queste buche, cosa sarebbe successo? No, ci avevano massacrato, soprattutto i tuoi colleghi, qui davvero. È una cosa incredibile, io ho tante buche. Ho letto l'altro giorno uno striscione che mi ha fatto tanto ridere, fate passare il Giro d'Italia anche il prossimo anno, non so qual era il comune, ma insomma era in Toscana. È una cosa incredibile. A proposito di comune, qui c'è una crisi prima di tutto politica, poi anche giudiziaria. Sarà un caso, ma per due volte nella storia, dalla nascita della Repubblica, ad oggi il centrodestra è salito al potere a Palazzo Cavallo e per ben due volte è finita in Procura della Repubblica. Ora come andrà a finire? Siamo garantisti, per carità, però questa cosa dà un pochino da pensare. Sì, dà un pochino da pensare, soprattutto alla deriva che la politica prende, a prescindere dalle persone. Sì, il caso, come dire, una volta ci si passa, due forze ci si riflette, però è un altro canto amministra chi gli aretini hanno mandato a amministrare, non è un problema legato alle vicende giudiziarie. Naturalmente la giustizia farà il suo corso, le persone saranno giudicate per quello che hanno fatto. Io non lo faccio con nessuno, non lo farò in questo caso, però come dire, gli aretini quando votano ci pensino. Comunque, ripeto, ci sarà da aspettare poi l'esito, perché siamo alle prime battute, però è una vicenda che forse Arezzo non merita. Assolutamente no, noi avremmo bisogno adesso di un grande piano di ripartenza per questa città, andare a ristabilire, riconnettersi con gli altri comuni della regione, con la regione stessa, provare a dare risposta davvero ai cittadini. Le lezioni ci sono state, abbiamo quattro anni per lavorare, vorrei capire in che direzione andiamo. L'altro giorno il Presidente della Repubblica, quindi cambiamo argomento, forse meglio, perché è una cosa abbastanza dolorosa. Il Presidente della Repubblica ha ricordato tre grandi donne, Nilde Jotte, Tina Anselmi, e qui abbiamo fatto una bella frenata, però qui c'è un cespuglio, non è molto... Anche su questo soprassediamo, io mi trovo a volte... No, appunto, questi cespugli sono un po' troppo... C'è un verde pubblico assolutamente abbandonato a se stesso. Quindi c'è spuntato, lo dico ai nostri amici che ci seguono, c'è spuntato... E ancora ce n'è un altro di cespuglio con le strisce... Ecco, un altro cespuglio con altre due persone che stanno per attraversare, insomma, abbiamo scoperto in diretta che c'è un pericolo qui all'Arezzo, insomma, noi facciamo passare perché ovviamente siamo... Sì, perché non c'è le vie di mezzo, si tagliano gli alberi o si tengono su con tante frasche e le siepi vanno e vanno. È un po' il vizio della destra, è prendere decisioni drastiche, insomma, da sempre, nel DNA. Eh, oh! No, lo sai che mi colpì una volta una frase che secondo me racchiude un po' il modo di pensare tra destra e sinistra. Woody Allen un giorno disse che la differenza tra destra e sinistra era la seguente. Quelli di destra prendono decisioni semplici davanti a problemi difficili. Quindi quelli di sinistra ovviamente prendono decisioni difficili davanti alle situazioni difficili, insomma, quindi, insomma, è un modo diverso, insomma, per approcciarsi. Io la do spesso dei 5 stelle, risposte semplici a problemi complessi, però, insomma, possono essere molto vicine alla destra. Siamo... Insomma, stavo facendo prima di questa interruzione. Presidente della Repubblica. No, no, queste tre grandi donne, no? Nilde Jotti, Tina Anselmi e Lina Merlina, che sono state ricordate dal Presidente della Repubblica e quindi, insomma, tre donne che hanno scritto pagine importanti dal punto di vista politico e anche civile. Assolutamente sì. Sono, sono... Diciamo che allora era ancora più complicato, dovevi essere davvero tanto più bravo degli uomini per farlo. Fra l'altro, Tina Anselmi non aveva dalla sua nemmeno l'aspetto fisico che invece ha visto negli anni successivi andare in Parlamento donne che avevano solo quello. Nilde Jotti era una bellissima donna. Merlin non credo sarà ricordata dagli italiani per l'aspetto fisico, ma per la legge che ha fatto. Sì, all'epoca era davvero molto molto complicato, le donne avevano tanta più difficoltà e dovevano dimostrare di essere tanto più brave degli uomini. Guarda che anche adesso comunque, anche avendo leggi elettorali che provano in alcuni casi in maniera rigida, come per esempio il numero delle donne assessori in alcuni comuni, come per esempio le donne presenti nelle liste nella legge elettorale toscana, perché non dice... la legge elettorale dice che ci devono essere tanti uomini, tanti donne, poi ne passano molti più uomini che molte più donne, perché invece c'è anche un problema di donne, spesso non votano le donne, però insomma anche su questo ci arriveremo. Io mi ricordo di borsine, magliettine nei mercati, donna vota donna, invece poi alla fine vi devo dire la verità che siamo quelle che ci si fa più battaglia di tutti, anche in sede elettorale. Comunque, ritornando alle nostre tre meravigliose donne, per loro è stato più difficile, ci voleva quello spessore, quella statura culturale, politica e morale per fare quello che hanno fatto. Posso dire con certezza, mi capita di intervistare tantissime persone, anche politici a livello nazionale, una delle persone più intelligenti e che mi hanno colpito particolarmente è stata Lidia Turco. L'intervista con Lidia Turco è una delle poche che conservo ovviamente celosamente, perché ti accorgi del diverso spessore della persona. Senza dubbio, in un settore molto particolare che è quello della sanità, quello del sociale, quello del rendere la donna più protagonista anche in questi settori chiavi della società, è stato un riferimento assolutamente importante, è stato un eccezionale ministro. Allora, io verso la conclusione di questo nostro viaggio volevo toccare il tema resistenza, perché è venuto fuori, tutti gli anni viene fuori questa diatriba che secondo me non ha veramente ragione di esistere. La resistenza è come se fosse solo e esclusivamente marcata con la bandiera rossa e la resistenza l'hanno fatta tutti gli uomini, tutti gli antifascisti, tutti coloro che volevano ribellarsi all'occupazione nazifascista. Ma certo, c'è stata una resistenza di matrice cattolica che è assolutamente, con Bartali che è stato uno degli artefici maggiori nella nostra regione, che nascondeva i pizzini dentro la canna della bicicletta. Quindi anche qua si torna a quello che si diceva prima, cioè quando la storia viene distorta per l'uno o per l'altra cosa. Ma secondo te, oltre la resistenza, ti pare normale che quando si parla di Auschwitz bisogna tutta una roba che la gestisce il centro-sinistra, quando ci parla delle foibe è una roba che la gestisce il centro-sinistra, ti garantisco, anche a livello regionale è questo. La giornata della memoria l'organizza una parte politica, la giornata del ricordo l'organizza un'altra parte politica. Ma secondo te, la storia, o secondo i nostri telespettatori, la storia va letta nell'obiettività e soprattutto nella consapevolezza di capire gli errori fatti. Perché guardate, se c'è un problema in questo momento è che noi non stiamo comprendendo gli errori fatti. Quello che è successo in Serbia e in Croazia nei campi di concentramento non molti anni fa è la stessa cosa che è successa ad Auschwitz. Proviamo a leggere questi fatti ricostruendo l'oggettività che faccia capire ai nostri ragazzi che la parola, l'offesa detta a una persona, non solo è un'offesa detta a quella persona, ma a quello che quella persona rappresenta? Una classe politica piuttosto che un'etnia, piuttosto che una religione, piuttosto che una razza, ce n'è una sola, ma insomma bianco-nero che il covare quell'odio ha portato a grandi stermini in tutto l'Occidente. Quindi allora forse la discriminazione non è solo da debellare perché in quel momento crea la rissa. Allora io vi faccio, dico solo una cosa se posso. Sabato sera è successo un episodio gravissimo in piazza di Badia. Quando io la mattina ho letto il giornale, sapete il giornale web naturalmente, sapete che ho detto sicuramente sono italiani perché nessuno scrive stranieri colpiscono una gente, ma vi pare normale? se era successo gravissimo il fatto, gravissimo a prescindere da chi l'aveva fatto, ma abbiamo capito che erano italiani non perché erano stati presi, ma perché non si diceva che erano stranieri. Allora tutti dobbiamo fare uno sforzo, anche l'informazione, non solo la politica, ma anche l'informazione deve far comprendere che i gesti sono gravi a prescindere da chi li scompe. Non perché se uno è nero e è nato da un'altra parte deve essere più bravo di me, deve essere rispettoso delle leggi come deve essere rispettoso io. Stai nel nostro paese, ti offriamo le opportunità che possiamo perché ci sono anche delle difficoltà oggettive, però rispetti le regole. Se non rispetti le regole torni da dove sei venuto, questo è il mio pensiero. Ma non perché sono razzista, sono assolutamente accogliente e credo che l'integrazione debba essere fatta molto prima nella testa delle persone che negli strumenti o nei contenitori che invece qualche volta ci danno l'idea che abbiamo risolto il problema dell'integrazione nei paesi e nelle città, non è così. Bisogna riempire di contenuto, i contenitori poi verranno. Concordo in pieno. Allora siamo quasi al termine, la domanda finale che rivolga tutti i nostri ospiti, che cosa ha letto o cosa sta leggendo in questo momento Lucia De Roberti? Qual è il libro che ha sul comodino o che ha lasciato da poco? No, un libro che non ho nemmeno comprato io, ma che mi ha comprato Carlo, in libreria che parla di una storia di un paese della Norvegia, l'ho comprato perché siamo andati qualche anno fa in Norvegia, dove c'è uno scontro tra muoiono tutti, cade, viene una... Vardo dopo la tempesta, l'ho letto anch'io. Perfetto, sto leggendo quello. Fantastico, bellissimo. Sto leggendo quello e anche lì si capisce, muoiono tutti gli uomini e le donne sono chiamate a decidere del proprio futuro, ma arriva qualcuno che gli dice ma tu sei donna, non puoi decidere, chiudiamo. Perché muoiono tutti i maschi. Tutti in un'affrazione, tutti i pescatori. Osano, per i tempi, perché hanno vintato nel 1600, andare a pescare a un posto di uomini. Osano decidere di vivere e alle donne a volte non è permesso. Libro straordinario, complimenti, perché veramente l'ho trovato di una intensità che è rara. Non mi direi alla fine, non l'ho finito. Ah, non l'hai finito. Non l'ho finito. Grazie Lucia. Grazie, grazie a te. Grazie a voi, alla prossima. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali chilometri zero e usate. Vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità. Sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in Via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, Sengong e Mahindra.